Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono Tee ed oggi siamo in questo video perché come potete ben vedere mi è arrivato un nuovo pacco Allora ragazzi, sono curioso di vedere di che cosa si tratta sicuramente qualcosa di interessante Cerchiamo di cercare Eeeh, ah, boh, da Chiara e Tommaso sempre loro ragazzi Stra simpati ragazzi queste persone che mi mandano robe Eeeh, fatto Via Adesso ragazzi scopriremo che cosa si c'è all'interno di questa busta Non ho guardato Vediamo cosa c'è qua Sapevo che c'era qualcosa Bisogna sempre controllare Che cos'è Perché Perché Cos'è Vabbè Allora ragazzi Qui abbiamo una confezione MLG a quanto pare Questo è un DVD Quindi ragazzi questo è un DVD Orca miseria È 2 in 1 limite 9 di 10 IGN Very cool Ma perché Va bene ragazzi Io penso che tirerò fuori la copertina MLG Perché la voglio The swag game Ragazzi Quindi insomma sicuramente Questo è il Due giochi in uno Fantastico Quindi sono due giochi in uno ragazzi Lasciamo momentaneamente qui Due giochi in uno Quindi li giocheremo appena un po' di tempo Do venerdì forse Vabbè Giocheremo Allora L'avventura di T E T Legend Fine Perché Questi immagino Che siano i titoli ragazzi Per cui Per cui sì Giocheremo a questi giochi ragazzi Ma non è finito Perché Ci sono anche Altri Cosi The swag Perché Perché Doritos Golden Freddy Freddy E Dio Siamo tutti swag Allora ragazzi Siamo su The swag game Assurdo ragazzi Qua sembra che Che ci siano cose incredibili nel mondo Vediamo di che cosa si tratta ragazzi Che bello Ah Sono tipo Ah ah Guardate ragazzi È incredibile sta roba Originale Le lettere sono Sono Erneste Sarebbe Da Attaccarlo tipo là Mentre il registro Che lo guardo ogni tanto Sarebbe Molto Molto Simpatico Vediamo invece qua Perché c'è ancora qualcosa No Spero che non si sia rotto ragazzi Se si è rotto piando Allora vediamo un attimo Qua Ah ok Questo è il mio cognome C'è il nome Più che altro E Qua c'è Freddy E qua c'è Fnaf Giustamente Lo sto guardando al contrario Quindi ragazzi Allora Meglio che faccio così Abbiamo Fnaf Abbiamo Freddy Più o meno E abbiamo il mio nome Incredibile Tipo con robe Sbrillancicose Ok Sicuramente Li metterò da qua Oh quanti fogli Allora vediamo un attimo GD-ROM 700 MB Top tempo Fantastico Perché Diciamo il time Cosa Perché Vabbè Sicuramente Il cd vuole essere giocato A quanto pare Vediamo gli altri fogli Perché sono tipo 53 Allora Questi Sono più di uno Are you ready for tea Freddy Perché Are you ready for tea Freddy Questa me la tengo Me la metto da qualche parte Veramente Cos'è questo? È un telefono ragazzi Hello Hello Questo è il phone guy ragazzi Ci sta Non ho ancora mai ricevuto La fanata del phone guy In effetti In effetti è uno dei miei personaggi preferiti Perché è molto misterioso E so che sto parlando di schiena Ma sto cercando di tirar fuori i fogli Allora vediamo un attimo Ciao ti Siamo sempre noi Tommaso e Chiara Lo so Sì Puoi già festeggiare Onesto Questa volta Nel po' che ti abbiamo spedito Che ti abbiamo spedito Ci sono tante cose Tra cui due videogame Le abbiamo visti Spero che ti piacciono Ciao Tommaso e Chiara Con Golden Freddy Come sempre ragazzi Golden Freddy È ovunque Ma non è ancora finita Perché c'è ancora L'ultimo foglio In Are you ready For party Freddy Perché Non è possibile Allora vediamo un attimo Are you ready for party Freddy Questo è ciò che mi descrive Cosa c'è nel pacco Questo are you ready for t Freddy E ok Questo è il disegno del DVD Questa è la fanart Con le robe E quello è The Swag Game Penso Aspetta che controllo di nuovo Sì ragazzi The Swag Game Quindi ragazzi Spero che Vedere ciò che si celava Dentro questo nuovo pacco Vi sia piaciuto Io mi sono divertito tantissimo E non so che cavolo è sta roba Ragazzi Cioè Cos'è Ebbene ragazzi Penso che Questo sia tutto quello Che potevo fare Per questo video E domani ragazzi Dovrebbe No O domani o dopo domani Dovrebbe uscire lo speciale 17.000 iscritti ragazzi Quindi state attenti Al canale Perché ci sarà lo speciale 17.000 Finalmente E inoltre Ci saranno altre animazioni E ci sarà Il ritorno delle teorie E ci sarà il gameplay Di questi giochi Che ho appena ricevuto Bad ending Per cui ragazzi Questo era tutto Quello potevo fare Per questo video E noi ci vedremo sicuramente Nel prossimo video